la natura morte è un genere dell'arte che ha trovato una sua autonomia in epoca moderna ma che trae le sue origini molto nel passato una delle nature morte più belle di tutti i tempi secondo il mio parere è un mosaico di epoca romana ritrovato a pompei e risalente al primo secolo dopo cristo creata da un artista romano anonimo durante il culmine dell'impero romano quest'opera d'arte è ora ospitata nel museo archeologico nazionale di napoli gli intricati dettagli e i colori vivaci di questo mosaico ritraggono una gran varietà di fauna marina per l'artista che compose quest'opera formidabile la natura per definizione non poteva essere morta per questo i pesci sono tutti rappresentati in acqua dai graziosi pesci che scivolano in acqua cristalline ai maestosi polpi con i loro tentacoli distesi ogni creatura sembra essere stata meticolosamente realizzata con grande curabilità il fascino degli antichi romani per la natura è evidente mentre catturavano l'essenza di queste creature sottomarine distinguiamo anche aragoste e anguille che aggiungono ulteriore intrigo a questo antico capolavoro ogni elemento si fonde perfettamente per creare una rappresentazione armoniosa del mondo sottomarino che esisteva secoli fa mentre osserviamo questa straordinaria opera veniamo trasportati indietro nel tempo per assistere alla bellezza e alla diversità che prosperavano sotto la superficie molto prima della nostra era moderna magari all'artista non piacevano nemmeno i pesci magari avrebbe preferito rappresentare un bell'arrosto il fatto sta però che purtroppo il cliente ha sempre ragione e i romani di napoli andavano particolarmente ghiotti per ogni tipo di pesce che pescavano e allevavano le leggi della repubblica che regolavano l'ostentazione del lusso in epoca romana dovettero mettere un freno all'abbondanza di cibo pensate che si arrivò a definire un limite massimo di spesa in se stersi che si poteva erogare per le cene ovviamente in relazione all'importanza degli ospiti i senatori e gli ambasciatori facevano salire vertiginosamente il limite di spesa per una cena se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando e anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando